Allora un po' di limone per cambiare sapore Porco dio cane telefono da 1000 euro Bingo Paga Scio ragazzi Oh Oddio Oddio Siamo ricchi Siamo ricchi Twitch Siamo ricchi Siamo ricchi ragazzi Siamo ricchi Siamo ricchi 290 euro 290 euro 290 D'amore Dio 160 euro Dio 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 LOL Grazie a tutti. 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 Non è importante dove siete, dove state, dove vivete, ma le tradizioni portiamola avanti perché ci stiamo dimenticando di queste cose. E sono importanti. Le tradizioni, Natale, Pasqua, sono importanti. Ho visto l'altra volta... Ho visto l'altra volta... Pagra... C'è un'altra volta... Grazie a tutti. Vino, 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 vino... E... Dicerebbe che... Porco di me... Porco di me... E basta con queste cose di cose... Basta... Basta... E...